Assessore Pugioni, 42 giorni di Quiresima, ancora una volta Cagliari che ospita la maggior parte degli eventi, che significato ha per l'amministrazione ospitare eventi del genere? Enormi perché come ho avuto modo di dire in altre occasioni non è semplicemente una somma di eventi ma fanno parte tutti questi eventi di un processo molto importante di messa in rete a sistema di, grazie alla vostra eccezionale bravura e professionalità, messa a sistema di tutti i soggetti che stanno lavorando per portare nei diversi mondi, a iniziare da quello della scuola, le istanze, dei diritti, del rispetto, i valori della differenza e tutto questo ha prodotto tra l'altro da quattro anni un'offerta artistica plurale di alto livello e una capacità di coinvolgimento attivo delle comunità e di contaminazione reale dei nostri spazi e del nostro tessuto urbano, quindi è molto importante. Una partecipazione che aumenta anche da parte del pubblico non soltanto per l'offerta che viene data alla Quiresima ma anche perché sono molte persone che vogliono capire un po' di più. Sì, immagino di sì proprio perché come ricordava anche l'assessore, il nostro programma è talmente vasto e complesso che va anche a interessare una popolazione diversa, nel senso che partiamo dagli incontri, ai seminari, passando per le mostre, incontri legati al cinema, al teatro, quindi non solo si affrontano temi complessi e di natura diversa pur affrontando ovviamente la questione dei diritti civili ma anche si toccano sfere artistiche diverse che vanno a incidere su pubblici diversi. Quello che noi cerchiamo di fare sempre mettendo in rete realtà differenti è proprio quello di creare un'offerta plurale anche per coinvolgere sempre un maggior numero di persone e questo è quello che voi riuscite a fare, non solo coinvolgendo sfere culturali e artistiche differenti ma anche territori molto diversi tra loro. Abbiamo visto che quest'anno vi spingete addirittura fino alla barbagia, penso che sia veramente un programma molto importante e che potrà determinare un cambiamento sostanziale nella nostra società. Una rete di associazioni che si inserisce in un'altra rete di associazioni all'interno di Cagliari Capitale della Cultura. Assolutamente sì, devo ringraziare anche per il fortissimo contributo e lavoro svolto in quello che io amo definire il laboratorio Cagliari Sardegna 2019, una delle eredità più importanti di tutto il percorso e il processo di candidatura è il fatto che siamo riusciti a generare un contesto di incontro, di relazione e di costruzione partecipata e corale di progetti e si vedranno i frutti quest'anno, l'anno della Capitale Italiana della Cultura. Stiamo come Capitale Italiana della Cultura rilanciando le reti, i percorsi e i progetti partecipati, elaborati nel corso del laboratorio candidatura l'anno scorso e sono sicura che sarà un anno molto ricco e non isolato perché poi, ho detto prima processo e continuo a dirlo anche per la Capitale Italiana, dopo c'è il 2016, il 2017 e anche il 2020, dopo il 2019, perché è un percorso lungo e avvincente che credo che ci porterà in Europa anche senza il titolo formale. Quiresima è la nostra sfida che ogni anno si ripete in primavera e inizio estate, è composta da 40 giorni di iniziative che vanno dalla fiaccolata della giornata mondiale contro l'omofobia al Pride di fine giugno. In particolare quest'anno le date, no, confine di questi 40 giorni sono il 16 maggio, il giorno della fiaccolata, e il 27 giugno, il giorno del Pride. In mezzo questo calendario che tocca un po' tutta la Sardegna, che noi chiamiamo piattaforma inclusiva, proprio perché permette a varie associazioni che si riconoscono nei nostri valori di partecipare con un proprio evento dentro il calendario.